sto facendo una lista dei luoghi magici dove i regali di natale sono speciali vediamo vediamo a rosia via massetana 3 erboristeria essenza ogni oggetto contiene la polvere di stelle che lo rende ricco di amore e di serenità per chi lo regala e per chi lo riceve elfo della sala comunicazione mettiti in contatto con questo negozio meraviglioso ciao volevamo ringraziarvi per aver scelto anche quest'anno erboristeria essenza per i vostri regali vi aspettiamo fino a domenica 24 alle 19 e nel frattempo a voi e tutte le vostre famiglie buon Natale vi ricordo erboristeria essenza dove la magia del Natale è di casa io ci farò un salto